Correzione generale per la maggior parte delle criptovalute, vediamo tanto rosso questa mattina, nelle ultime 24 ore, correzioni del 14, 15, 20% per la maggior parte delle altcoins, questo perché Bitcoin in questo momento si trova a 93.500 dollari, in verità 92.635 al momento in cui registro siamo ancora scesi più in basso, quindi che succede? E' questa una correzione pericolosa oppure stiamo solo ricaricando le energie per attaccare i 100.000 per Bitcoin e riprendere di nuovo a salire per le altcoins? In questo video ne voglio parlare assolutamente ragazzi, c'è anche una nuova promozione per quanto riguarda il 20% per anno che è molto molto generosa, quindi potrebbe essere molto interessante per tante persone. Iniziamo subito ragazzi, però prima di iniziare come al solito, fatemi sapere che siete qui o mi piace, basta un click al gioco che è fatto e se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale per non perdervi nulla, perché cerco sempre di aggiornarvi. Quindi vediamo su Crypto Bubbles, tutte le criptovalute sono in rosso, Bonk meno 11, Chrome meno 9.6% nelle ultime 24 ore, BGB anche meno 5%, Floki meno 10, tutte le criptovalute che avevano messo percentuali interessante sono scese un po' nel 10-15, 20% anche sull'ANA meno 9%, Pepe, ADA, Cardano, Bonk, XLM, ENA, tutto quello che stiamo seguendo sono scese. Questo perché ragazzi? Ovviamente perché bisognava vedere una correzione, è impossibile continuare a salire sempre verso livelli estremi, verso 100.000 senza vedere una piccola correzione, quindi senza nessuna paura, questo potrebbe essere un ottimo momento per scalare acquisti, per accumulare per mesi migliori. Sicuramente potrebbe esserci una ripresa nelle prossime settimane, però una correzione, ripeto, la sto chiamando, ormai tutti la chiamiamo da tantissimo tempo, anche se abbiamo una market cap di 3 trilioni di dollari, 3.22, abbiamo fatto un record per le criptovalute, volume nelle ultime 24 ore, 238 miliardi con un più 20%, quindi lo stesso c'è attenzione, ci sono tante persone che stanno continuando a reinvestire nel mondo cripto e sicuramente i volume ritorneranno anche in positivo. Poi ragazzi voglio assolutamente parlarvi di questa notizia perché sarà pubblicata sulla pagina ex ufficiale di Crypto.com alle 9 di stamattina, vediamo che hanno aggiunto una sezione earn che permette di bloccare il cro per 12 mesi e riceviamo un 20% annuo con cro di interesse, quindi ragazzi blocchiamo 1000 e riceviamo 200 in poche parole perché questa è una percentuale fissa e quindi si riceve una percentuale molto molto ampia, molto generosa in questo caso la parte di Crypto.com e vi ricordo che tutti i link sono qui in basso in descrizione, ragazzi avete tanti bonus anche con Crypto.com, avete 50 dollari bonus o 25 in cro, però dicevo questa è una promozione molto interessante, ci sono solo 7 giorni per partecipare, bloccate il cro per 12 mesi, quindi quale potrebbe essere la parte negativa di questa promozione molto interessante, la parte negativa potrebbe essere che il prezzo da quei 12 mesi cambia e anche se vuoi mettere un 20% di percentuale in positivo, se il prezzo scende rispetto a quando avete bloccato il cro ovviamente siete in negativo, semplicissimo, spero abbiate capito però chi è in questo mondo sa benissimo quali sono i contro di bloccare il criptovaluto in una sezione earn, mettere in staking, già sapete molto molto bene. In verità sto provando, ah ok adesso si apre il sito e credo che anche in Italia ragazzi funzioni, io ho un account negli UEI di Crypto.com e per adesso mi esce una sezione earn il 20%, prima fino a due minuti fa non mi funzionava il sito questo qui, non c'era nessuna diciamo nessuna pagina, però adesso funziona, però non penso che non ci sia l'Italia, però credo ci sia assolutamente, fatemi sapere nel caso aprendo l'applicazione, fatemi sapere se c'è il tutto. Detto questo ragazzi vediamo Chris Marsaleck che pubblica questo post qui su X dicendo che i meme coins nel 2024 risembrano come gli NFTs nel 2021, cioè progetti che scoppiano senza avere un senso, ci sono persone che ci guadagnano però la maggior parte non ci guadagna e bisogna stare attenti. E parlando di meme coins ragazzi voglio aggiornarvi con meme scalper perché questo è un bot creato da Gabriele in collaborazione con il mio canale YouTube e in pratica tramite questo bot c'è possibilità di entrare nelle meme coins 24 ore su 24 tramite un algoritmo che va a fare DCA e è molto interessante ragazzi, c'è un video in cui spieghiamo come funziona lo specifico che vi lascio sempre qui in basso, però è davvero un bot super interessante, queste qui sono le percentuali di 30 giorni, 56%, 40% e c'è un drawdown massimo del 50%, quindi fino al 50% della meme coin che scende, non si perdono soldi e perché viene fatto tutto in automatico, un investimento, cose super super interessanti, quindi dategli assolutamente un'occhiata, viene anche spiegato come fare il tutto, come settare il tutto tramite Bigget, eccetera, se acquistate il bot, vi ripeto il link qui in basso in descrizione, dategli un'occhiata assolutamente. Poi ragazzi, scusatemi, altra cosa importante, vediamo questo posto di Elon Musk, ancora non posso credere che Doge, che sarebbe diciamo il dipartimento del governo con Elon Musk, eccetera, è realtà. Doge ovviamente sta anche per Doge, la meme coin ragazzi, e fa ridere che ovviamente al governo degli Stati Uniti ci sia un reparto chiamato Doge, e abbiamo visto Doge fare cose assurde per quanto riguarda il prezzo, adesso sta correggendo, però lo stesso siamo arrivati davvero a cose assurde. Doge è ritornato quasi ai massimi storici, quindi capiamo che è assurdo che abbia messo queste percentuali, e se solo avessimo investito più in basso, ovviamente sarebbero stati percentuali incredibili, però è un po' una scommessa. Però sono contento che comunque abbia trascinato un po' il mondo delle min coins, eccetera, e le alt coins si riprenderanno nonostante questo rosso. In questo momento ragazzi, vediamo anche per Claw una correzione. Lo stesso, ripeto, siamo su un supporto importante, questo qui verde, che spesso ne parlo, non c'è niente di cui preoccuparsi per adesso ragazzi, una correzione è normalissima una correzione, anzi bisogna vedere verde, rosso, dopo un bel verde per ricaricare l'energia e ricontinuare a salire. Quindi nessuno spavento, Bitcoin può anche ritornare sui 88.000, potrebbe ritornare anche in zona 79.000 qui in basso per poi andare di nuovo a attaccare i 100.000 senza nessun problema, anzi anche i 73.000 dollari, che sarà una resistenza molto potente per Bitcoin, potrebbe servire per ricaricare e per avere alti volumi in salita e rompere i 100.000, quindi fin quando siamo in queste zone ragazzi abbiamo visto correzioni del genere, già in passato non c'è nulla di cui preoccuparsi, anzi è tutto, tutto nella norma. Detto questo c'è anche quest'altro post che vi volevo parlarvi ragazzi, questo qui è la dominance di Bitcoin, che è altissima, sappiamo che è al 57%, ora è al 58% e quindi diciamo non c'è tanto spazio per le altcoins ovviamente. Quando la dominance di Bitcoin dopo l'alving, ogni volta che sono passati 200 giorni all'incirca, questo grafico ci mostra che c'è una discesa per quanto riguarda la dominance e quando c'è una discesa per quanto riguarda la dominance che stiamo aspettando con tantissima voglia, perché se Bitcoin resta a livelli alti 80.000, 90.000 eccetera, 100.000 la dominance scende, significa che tante persone vanno alle altcoins per trovare spazio per più, per speculare ovviamente ragazzi. Quindi in questo momento ci troviamo a 217 giorni dall'alving, come è successo sempre, con questi, come vediamo in questo grafico, dopo questo tot di giorni il prezzo poi tende a, della dominance ovviamente, il grafico tende a scendere e c'è più spazio per le altcoins. Quindi speriamo ragazzi che ciò accada così, vediamo le altcoins scoppiettare come i veri vecchi tempi. Detto questo ragazzi noi ci aggiungiamo prestissimo con la prossima avventura, vi ricordo ovviamente Biggett qui in basso, 5% di sconto sulle fees, fino a 8.000 dollari di bonus e tutto il resto, tutti i link sono qui in basso ragazzi, ripeto ancora 100.000 volte l'ho detto. Ci aggiungiamo prestissimo nel prossimo video, speriamo che si fermi un po' per adesso questa discesa, però ripeto sono opportunità, dipende un po' come la vedete. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.